La presenza dell'ex ministro e attuale presidente della Commissione Lavoro della Camera, Cesare Damiano, alla festa del Partito Democratico di Catanzaro, è stato senza dubbio un segnale di attenzione da parte del Partito Nazionale. Un PD quindi alla ricerca dell'unità, ma anche impegnato nel recuperare un rapporto diretto con i cittadini ed è stata l'occasione per parlare di lavoro in una zona, il quartiere Santa Maria di Catanzaro, scelta non a caso e meritevole di attenzione. Un bel segnale di attenzione nazionale per uno sforzo enorme che stiamo avviando in questi giorni a partire da questa serata, da questa festa, che è quello di rilanciare una presenza del Partito Democratico nella città di Catanzaro dopo una fase difficile, di sconfitta dura all'elezione amministrativa. Però non ci siamo rassegnati, non siamo rimasti chiusi a fare polemiche all'interno, abbiamo deciso di venire qui a Santa Maria in un quartiere popolare, in un quartiere che ha avuto per parecchi anni, nei decenni scorsi, una presenza operaia penso a quanti operai del vecchio cementificio abitavano in questa zona, del settore dell'edilizia è un quartiere popolare che merita un'attenzione sui temi delle prospettive di lavoro, della lotta alla povertà per le famiglie più povere e del risanamento dei quartieri che sono stati all'attenzione anche nei giorni scorsi per una violazione della legalità, per gesti di violenza, per situazioni che vanno rimosse e superate attraverso un impegno dello Stato.